Nel video precedente vi ho mostrato le funzioni preparatorie G. In questo vi mostro invece le funzioni ausilarie M. Queste impartiscono i comandi alla macchina. In questa tabella io ho evidenziato le principali, ad esempio M03 e M04, che fanno ruotare il mandrino. M03 in senso orario, M04 in senso anti-orario. Come vedete, stesso discorso che ho fatto per i codici G, anche per i codici M, il codice è composto dalla lettera M seguita da due cifre. Tutte queste funzioni si differenziano perché alcune iniziano, vengono eseguite ad inizio blocco. Il blocco è in rigo, è un rigo del programma che noi andiamo a scrivere. Quindi noi facciamo 10 righi, sono 10 blocchi. I blocchi sono numerati con la lettera N seguita da 10, 20, 30, eccetera, eccetera. Perché i numeri vanno di 10 in 10? Perché lasciamo lo spazio tra un blocco e l'altro di poter apportare delle modifiche. Tipo, dimentico un passaggio tra il blocco 10 e il blocco 20, inserisco il blocco 15. E comunque ho ulteriore spazio per poter modificare il mio programma. Stavamo dicendo che alcune funzioni vengono eseguite a inizio blocco, cioè subito, appena la macchina legge tutto il blocco, e ad esempio M03 lo va ad eseguire ad inizio blocco, cioè subito inizia a far ruotare il mandrino. Altre a fine blocco, cioè eseguono prima tutte le altre operazioni e poi a fine blocco eseguono questo tipo di funzione. Un'altra differenziazione, così come invece per i codici, le funzioni, diciamo, preparatorie G, possono essere le funzioni ausiliari anch'esse modali o non modali, cioè memorizzate, che fino a quando non le andiamo a disattivare rimangono attive. Un esempio è sempre M3. Io in un blocco andrò a dire fai ruotare il mandrino in senso orario. Ovviamente questa funzione rimane attiva fino a quando io non le dico arresta la ruotazione del mandrino. Altrimenti è modale, quindi in ogni blocco lui continua a far ruotare il mandrino in senso orario. Non modale è quando invece la funzione non è memorizzata, cioè quindi nel blocco successivo non la esegue più. Cioè il cambio utensile, come vedete, è una funzione non modale, viene eseguita solo nel blocco in cui è inserito. Andando avanti, M5 ad esempio, che è subito dopo M3 e M4, serve ad arrestare il mandrino. Io non la utilizzo molto perché quando termino il programma utilizzo direttamente M30 che mi consente di andare ad arrestare il mandrino, di andare a chiudere l'ettrovalvola, quindi il rubinetto del refrigerante, di andare a riportare in posizione iniziale l'utensile e così via. M06 è molto importante, la utilizzeremo sempre. M06 viene eseguita sempre dalla lettera T. T sarebbe tool, cioè cambio utensile, no? E poi la T indica il numero di utensile che sta all'interno del nostro magazzino. Ad esempio T02 prendi l'utensile che sta al posto 2. T06 cambia utensile, quindi M06, T06 cambia l'utensile e prendi l'utensile che sta al posto 6. Lo vedremo man mano, diciamo, è molto più semplice quando andiamo ad utilizzare il nostro simulatore. Ad esempio M08 non l'ho evidenziato, è un errore, però è fondamentale perché con questo andiamo ad aprire il rubinetto, quindi andiamo a far partire il refrigerante. Come vedete anche M30 disattiva in automatico il refrigerante, la rotazione del mandrino e resetta sostanzialmente la macchina.